C'è una cosa che ti può aiutare. Sai quella storia che usiamo solo il 20% del cervello? Vabbè, la provo, dai, solo per curiosità. Con questo lo usi solo il 2%. Prima vedevo, ora ero cieco. È buono, eh? Giulio, ti vedo spensierato, che hai fatto? Mi prendo questa. Signor Rossi, ma saputo, la benzina è aumentata ancora. A me che cazzo me ne frega a me? Io ho il diesel. Così impossibile. Ma che pensi, siete impazziti? Io ho paura pure di prendere l'aereo quando devo andare a Milano.